E' andata bene, mi hanno messo subito il feature table ed era un tavolo veramente veramente violento. Corre con Candio? No, 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 il tavolo tecnico quello in sala stampa. C'era Vanessa Russo, c'era un ragazzo che ha vinto l'IPT a Berlino mi pare, insomma un tavolo pesante. Ho partito a 170, ho fatto subito due 10 e poi ho fatto un mezzo hero call sbagliato sulla Russo e invece un bel call su un altro, insomma su e giù, su e giù. Perso due flip da 50, sono sceso a 120 e poi ho preso una mano che mi ha lanciato con due donne, con donna di quadri su un bordo a tre quadri. Il Russo contro di me giocava veramente bene, ho overbettato, ho pushato un set, perciò ho gridato al dealer one time, avevo un po' di out e ho preso donna di cuori al river.